insomma con la doppia m quando lo uso partiamo da un esempio io ho scritto ieri sono andata a portare mia figlia a scuola prima cosa poi sono venuta al lavoro seconda poi sono andata a camminare terza cosa insomma ho fatto tante cose insomma si utilizza come se fosse in conclusione insomma serve per chiudere un discorso e completare il nostro argomento alla prossima